Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione perché anche oggi in Abruzzo si registra un aumento significativo dei positivi e dei deceduti per coronavirus. La percentuale di nuovi pazienti rispetto ai tamponi si attesta attorno al 13%. Ci sono anche un neonato di 10 mesi e un anziano di 94 anni tra i 423 positivi al covid individuati attraverso l'analisi di 3.274 tamponi con una percentuale di positivi pari al 12,92%. Dei nuovi casi 138 si riferiscono alla provincia di L'Aquila, 92 a quella di Chieti, 75 a quella di Pescara e 103 alla provincia di Teramo. 24 invece sono di fuori regione o con residenze in corso di accertamento. Nelle ultime 24 ore sono 12 i decessi che portano il numero delle vittime da inizio emergenza a quota 596. 4.445 sono le persone guarite dal covid-19 in aumento rispetto a ieri, così come le persone ricoverate in ospedale 527 di cui 43 in terapia intensiva con un aumento di un'unità rispetto a ieri. 8.369 sono invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare con solverdianza attiva della ASL. Il totale dei positivi da inizio emergenza, cioè da marzo, è pari a 13.937. Fin qui i numeri del bollettino. In questo primo weekend nel quale è in vigore il nuovo DPCM del governo, però, la polemica arriva dal Terramano e riguarda le scuole. A sollevare dubbi e perplessità sono i sindaci di Terramo e Giulianova. Proprio il primo cittadino giuliese, Ivan Costantini, sottolinea come siano necessari monitoraggi rapidi con corsia preferenziale per le scuole, accordi con i laboratori privati e autonomia dei dirigenti per l'attivazione della didattica a distanza nelle classi in caso di contagio. L'appello di Costantini segue le situazioni di criticità rilevate nel corso dell'ultimo comitato ristretto dei sindaci ed evidenziate anche dal presidente del Lancio Abruzzo e sindaco di Terramo, Gian Guido d'Alberto, che aveva sollecitato Regione Abruzzo e ASL di Terramo all'adozione di un nuovo protocollo operativo per le scuole. A tale scopo, commenta il primo cittadino di Giulianova, è fondamentale che sulla base del riscontro dei tamponi con esito di positività effettuati anche nei laboratori privati venga attivata immediatamente la procedura di messa in isolamento delle classi interessate e di contestuale attivazione della DAD nell'attesa delle indicazioni di caratteri sanitario di competenza della ASL. Questo consentirebbe, secondo Costantini, l'adozione di risposte rapide ed efficaci come richiesto dall'aumento dei casi di contagio riscontrati e di porre in condizioni di sicurezza l'intera comunità scolastica. Due postazioni mobili all'Aquila per effettuare tamponi per test Covid. rispettivamente nell'area est a Bazzano all'interno del nucleo industriale e nell'area ovest all'interno dell'aeroporto dei Parchi nella frazione di Preturo. Il potenziamento del servizio che a livello pubblico fa segnare disagi in un'area interessata da un'impennata di casi è curato dal Comune dell'Aquila e dai Carabinieri e sarà attivo a metà della prossima settimana. Lo annunciano il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il comandante provinciale dei Carabinieri, Nazareno Sant'Antonio. La potenzialità è complessivamente di 100 tamponi giornalieri. E sono oltre 500 invece i tamponi eseguiti in modalità drive-in dall'ASL di Teramo nel centro turistico integrato di Atri. Lunedì mattina ne verranno effettuati altri 500. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale che sottolinea come quella dei tamponi drive-in rappresenti una modalità che consente di accelerare le procedure per ridurre i tempi d'attesa di chi è in lista da richieste dei medici curanti. Ad Atri a breve sarà possibile sottoporsi ai tamponi rapidi dai medici di base. L'amministrazione ha messo a disposizione per l'esecuzione dei test antigenici un locale adibito a infermeria con annessi servizi igienici anche per disabili nel Palasport di Nardo Di Maio nel centro turistico integrato. Il locale sarà sanificato quotidianamente a cura del comune e messo a disposizione nelle ore mattutine dei medici di base che potranno eseguire il test ai propri pazienti sulla base di un calendario da essi predisposto. C'è una seconda vittima, la RSA Centro Religioso Anziani Antoniano di Lanciano. Si tratta di una donna di 100 anni, proprio di Lanciano, risultata positiva al coronavirus che nei giorni scorsi era in condizioni critiche anche in virtù di delicate patologie pregresse. L'ospite è morta nella notte nella struttura sanitaria. Il primo decesso invece di ieri riguarda un 96enne tumulato oggi nel cimitero Frentano. Finora all'Antoniano sono stati registrati 87 contagiati di cui 70 ospiti e 17 fra operatori sociosanitari, personale di cucina e lavanderia. Ieri i tamponi ripetuti per una decina di operatori sanitari sono già risultati negativi. Intanto il direttore sanitario Evandro Tascione e la segreteria dell'Antoniano hanno inviato un appello all'ordine dei medici di Chieti e Pescara per raccogliere la disponibilità immediata di medici e infermieri che possano da subito dare sostegno alla struttura nell'assistenza agli ospiti. Cambiamo argomento adesso. Dopo sei settimane di silenzio arriva la nuova proposta della Betafence per lo stabilimento di Tortoreto a rischio chiusura. L'azienda vorrebbe tenere aperta una sola linea a fronte di aiuti economici da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che ha rigettato il piano. I sindacati chiedono un impegno diverso da parte della Betafence e la salvaguardia dei lavoratori. La proposta di tenere in vita una sola linea produttiva confermando in maniera quasi totale il taglio del personale addetto non può essere accettata dai sindacati e dai lavoratori della Betafence di Tortoreto che dopo la riunione ieri in videoconferenza del tavolo di trattativa al Mise a sei settimane di distanza dall'ultimo incontro ritengono insufficiente la proposta dell'azienda. Il Mise ha chiarito attraverso le dichiarazioni della sottosegretaria Todde come lo stesso non sia disponibile ad erogare sostegni economici a fronte di un piano che preveda licenziamenti per il sito di Tortoreto concludendo che il tavolo di trattativa verrà riconvocato quando l'azienda presenterà un piano sostenibile e condivisibile tra le parti. Come Fim Fium Wilm si legge in una nota congiunta crediamo che sia una situazione surreale. Dopo sei settimane dall'ultimo incontro infatti l'azienda si è presentata al tavolo senza numeri senza un piano industriale credibile e confermando i licenziamenti oltre a chiedere finanziamenti pubblici. È un atteggiamento inaccettabile e irrispettoso continuano i sindacati nei confronti di un tavolo istituzionale e dei lavoratori di Tortoreto. In questi mesi, si legge ancora nella nota dall'annuncio di chiusura dello scorso luglio in poi l'atteggiamento aziendale ha soltanto depauperato le prospettive economiche e l'appetibilità di uno stabilimento senza crisi produttive negli ultimi anni. La conferma dei licenziamenti da parte di Betafence concludono i sindacati, preclude una trattativa sostenibile servono e vanno trovate soluzioni alternative a livello istituzionale attraverso un confronto con coloro che seriamente vogliono la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Tortoreto. Manifestazione questa mattina a Peschiara da parte dei laureati in scienze motorie. I precari dello sport chiedono di poter lavorare. Il lavoro è vita, il lavoro è dignità. Scendono in piazza i professionisti delle scienze motorie. Insegnanti di educazione fisica, istruttori delle palestre e laureati in scienze motorie hanno manifestato questa mattina davanti alla sede pescarese della regione. Chiediamo dignità, hanno detto ai nostri microfoni. Vogliamo chiedere di lavorare in qualsiasi modo e se non è possibile lavorare avere un reddito di emergenza. Questo reddito di emergenza dovrebbe essere dato a prescindere a tutte e a tutti senza chiedere come mai se lavori o se non lavori. Perché il reddito può dare dignità a tutti quanti. È una vita dignitosa che potrebbe cambiare la situazione di molte persone come noi. Perché noi siamo dei precariati sia nelle scuole sia nelle palestre e nelle piscine. Perché non abbiamo un contratto di legge ma abbiamo sempre dei cococò. Questi cococò non ci danno diritto a nulla né alla malattia né alle ferie e quindi noi chiediamo di far approvare anche il decreto sportivo che è in quinta seduta al Senato e di far approvare anche il decreto legge del DDL 992 prossimamente. Se non è possibile nell'immediato di farci lavorare con i progetti che sono andati avanti per dieci anni passati. Credi che coloro che lavorano nel mondo dello sport in questi mesi siano stati un po' trascurati? Sì, siamo stati trascurati perché ci sono stati studi che durante la pandemia l'attività motoria ha dato dei frutti per superare questa crisi. Soprattutto con dei ragazzi che hanno sofferto di depressione e con l'attività motoria si andava a sviluppare dei neuroni, dei recettivi neuronali che andavano a combattere contro questa depressione. Noi siamo stati anche trascurati dal mondo politico e dal mondo statale. La CGL esprime perplessità sull'apertura di negozi e botteghe nel weekend mentre i centri commerciali sono chiusi perché lì potrebbero crearsi assembramenti. Il sindacato chiede controlli da parte delle forze dell'ordine e ammortizzatori sociali. Centri commerciali chiusi nel weekend o perlomeno con le attività non essenziali chiuse però nelle altre parti dove non ci sono i centri commerciali gli altri negozi sono aperti e questa è una situazione di differenziazione che per voi della CGL non è corretta. Più che altro noi crediamo che questa sia una situazione che può creare delle serie situazioni di pericolo o possibilità di contagio nel senso che con i centri commerciali in gran parte chiusi perché sono pochissime le attività aperte nei centri commerciali si può verificare che i clienti si rivolgono tutti nei negozi che stanno all'esterno dei centri commerciali e che sono aperti. Pensiamo ai negozi elettronica di consumo, mobili, articoli sportivi eccetera eccetera tutti i posti dove in genere la clientela va nel weekend e passa un po' di tempo. Le disposizioni dicono che gli ingressi vanno contingentati e che i clienti possono star nei negozi il tempo stretto e necessario a fare gli acquisti. Queste regole devono essere rispettate altrimenti si rischia veramente che la situazione possa degenerare. Sul fronte lavoro all'interno sia della grande distribuzione che dei negozi temete che ci siano delle ripercussioni con queste nuove disposizioni? Indubbiamente ci sono delle ripercussioni. Diverse aziende hanno già riattivato gli ammortizzatori sociali anche quelle che le avevano sospese e in ogni caso con questa situazione è chiaro che c'è un calo dei consumi noi abbiamo di fronte l'inverno e soprattutto il Natale che per il commercio è un periodo molto importante e ci sono grossi dubbi su come questo Natale e i cali di fatturato di questo Natale incideranno rispetto all'economia del settore e delle imprese. Secondo voi gli strumenti messi in campo in questo momento sono sufficienti o bisogna fare di più? Il punto rispetto alla sicurezza è che le regole devono essere rispettate. Noi abbiamo chiesto che ci sia un controllo massiccio da parte dei vigili urbani e delle forze dell'ordine rispetto alle regole all'interno dei negozi e questo deve essere fatto perché altrimenti sarà tutto vano si rischierà che quella norma riporti più danni dei benefici che potrebbe che porti. Quindi questo è un primo passo. Il secondo è che bisogna avere attenzione ci devono essere ammortizzatori sociali così come sono stati dati e ovviamente il blocco dei licenziamenti così come è stato accolto dal governo per lo meno fino a marzo. Il questore dell'Aquila Gennaro Capoluongo fa il punto della situazione per quanto riguarda i controlli Covid, la nuova organizzazione della Polizia per gestire i servizi in sicurezza. Capoluongo ribadisce la volontà delle forze di Polizia di essere vicine ai cittadini per cercare di superare insieme il difficile momento che stiamo vivendo. La Polizia di Stato in prima linea nell'emergenza sanitaria in corso continua con spirito di abnegazione a mettersi a servizio della comunità per garantire sicurezza e legalità sui territori con estrema razionalità nell'affrontare situazioni spesso difficili e delicate. Un impegno straordinario che impone grande responsabilità così il questore dell'Aquila Gennaro Capoluongo. La questore dell'Aquila in particolare la Polizia di Stato ma ritengo tutte le forze di Polizia si sono poste sempre come amici dei cittadini persone che hanno dal primo momento informato sulle regole da rispettare consigliato sulle azioni da tenere abbiamo riscontrato una responsabilità della società civile seppur ovviamente questa situazione ha messo a dura prova un po' la capacità delle persone di rispondere in maniera efficiente a questa cosa. I controlli sono stati fatti a largo raggio sono stati fatti con il rigore che la legge ci richiedeva nella consapevolezza di trovarci di fronte a persone che rispettavano le norme ma che ovviamente ricevevano dei disagi. Da un punto di vista della sicurezza pubblica devo dire che questo territorio non ha registrato fenomeni molto allarmanti il disagio sociale sicuramente c'è dipeso da tutta una serie di attività anche commerciali ridotte ma su questo fenomeno siamo stati molto molto attenti. Responsabilità ma anche capacità di reagire in tempi rapidi alle criticità come il caso dello sportello immigrazione del commissariato di Avezzano chiuso temporaneamente per la positività di alcuni operatori. Le attività però non si sono mai fermate. Noi siamo abituati a riorganizzarci appunto siamo una forza di polizia non militare ma sicuramente con una riorganizzazione molto forte e la responsabilità degli operatori che ho riscontrato è stata veramente elevata. Abbiamo come la stessa società civile avuto dei casi di Covid devo dire molto limitati ma questo è stato determinato soprattutto dalle regole che ci siamo imposti. Lei ha visto che per entrare qui deve sanificarsi, utilizzare la mascherina e il distanziamento. Abbiamo applicato anche tutta una serie di interventi di carattere sanitario all'interno della struttura e dal bollettino che ho e che mi faccio fare ogni mattina dal nostro ufficio sanitario devo dire che la nostra situazione è assolutamente in linea. Non abbiamo grosse emergenze c'è stato qualche problemino ad Avezzano sull'ufficio di immigrazione ma che abbiamo superato devo dire in maniera brillante con la cozza e la priorità di tutti che siamo al servizio dei cittadini. Lei vedrà anche qui la fila di migranti che c'è distanziati abbiamo immediatamente spostato alcune attività sulla questura. Penso che i cittadini non hanno assolutamente risentito di questa cosa e ripeto siamo veramente nella norma bisogna essere pazienti consapevoli che purtroppo l'infezione c'è, gira rispettare se stessi significa rispettare anche gli altri. Oggi noi siamo qui a fare un'intervista siamo all'aperto indossiamo entrambi le mascherine io prima di scendere mi sono lavato le mani per il rispetto delle persone che andavo a incontrare piccole regole semplici che possono aiutare tutti quanti ma soprattutto aiutare la società per il resto ripeto mi rendo conto che c'è tanta gente che sta facendo dei sacrifici anche a livello economico il governo sta intervenendo con una serie di misure a tutela di queste persone noi cerchiamo di interpretare le aspettative dei nostri cittadini e facciamo tutto affinché questo ambiente questo territorio possa essere nella massima sicurezza. Regione Abruzzo in accordo con Marche, Puglia e Molise ha proposto alla Commissione Europea di inserire la dorsale Adriatica Ancona-Bari e la trasversale tirrenica Civitavecchia-Pescara-Ortona all'interno dei progetti infrastrutturali delle reti TNT l'obiettivo è quello di potenziare l'intermodalità dei porti del Sud Italia. La Regione Abruzzo ha coordinato la proposta condivisa con Marche, Molise e Puglia relativa al processo di revisione della rete transeuropea dei trasporti avviato dalla Commissione Europea nel 2019 proposta che consentirà l'introduzione nella rete di nuovi nodi infrastrutturali quali porti, interporti e aeroporti insieme ad un aggiornamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie che uniscono tali nodi. La Regione Abruzzo nella giornata di ieri ha proposto l'inclusione nella Core Network cioè nella rete centrale della sezione Ancona-Bari lungo l'asse Adriatico e della sezione trasversale Civitavecchia-Pescara-Ortona che collega il Martirreno al Mar Adriatico entrambe non recepite nel 2013. Il nostro obiettivo ha sottolineato il Presidente Marsilio è quello di affermare l'itinerario marittimo-ferroviario lungo il versante Adriatico-Ionico che raccorda i porti del Sud Italia concretizzando un rapido collegamento verso il Nord in una catena intermodale integrata ed efficiente e consentendo l'ingresso ai paesi dei Balcani e all'est Europa. Auspichiamo ha concluso il Presidente della Regione che la Commissione europea tenga conto dei cospicui investimenti messi in campo per potenziare le infrastrutture citate alcune delle quali come la ferrovia Roma-Pescara e le autostradi a 24 e da 25 ricomprese tra le opere prioritarie nel piano infrastrutturale 2020 del Governo nazionale denominato Italia Veloce. Il Partito Democratico attacca il Comune di Pescara per la mancata manutenzione del Fosso Grande al confine tra il capologo Adriatico e Spoltore il progetto del Comune potrebbe provocare un danno ambientale questo è quanto sostengono i consiglieri di opposizione. Il Fosso Grande è ancora a rischio sull'ondazione il canale che ha origine a Montesilvano e separa Spoltore e Pescara negli anni è stato notevolmente ristretto e ad oggi è pieno di vegetazione spontanea questo video è del 22 ottobre quando la pioggia ha causato l'allagamento di Via Francia nel 2013 un'esondazione causò danni per circa un milione di euro ma da allora le amministrazioni che si sono succedute hanno fatto poco per risolvere il problema bisognerebbe elaborare un progetto molto molto importante che supera sicuramente un milione di euro proceduto da uno studio idraulico interessante questa zona che è una zona ormai troppo troppo antropizzata rispetto all'originaria funzione del Fosso Grande oggi noi l'abbiamo ribattezzato Fosso Piccolo per guardare le dimensioni ormai in cui è ridotto e non parliamo naturalmente di una semplice manutenzione ordinaria cioè di una semplice pulizia parliamo di realizzazione di salti idraulici a monte del ponticello che collega qui la motorizzazione per diminuire la forza dell'acqua parliamo naturalmente di vasche di espansione o di uno scolmatore cioè interventi importanti che devono essere previsti in uno studio e un progetto sul Fosso Grande in realtà esiste ma attacca il PD non rappresenterebbe la soluzione al problema l'amministrazione comunale di Pescar a distanza di 11 mesi ieri ha introitato i 60.000 euro che vengono dalla regione per la pulizia del Fosso tanto sottolineiamo il ritardo ma assolutamente questo non è risolutivo di questa situazione occorre veramente un intervento importante hanno partecipato con una delibera di giunta un bando ministeriale in cui hanno chiesto 490.000 euro di lavori per il Fosso Grande ma chi ha letto quella delibera e noi l'abbiamo illustrato oggi in questa conferenza stampa sa che quella delibera non prevede nulla di quello che abbiamo detto noi peraltro quella delibera contempla un allegato che è parte integrante e quindi è stato inviato al Ministero che è assolutamente sbagliato cioè anziché parlare di Fosso Grande parlano della messa in sicurezza dell'ex Cava Cetrullo di via di sotto i tecnici del Comune sono stati disattenti ma i dieci assessori che erano in giunta quale delibera hanno approvato quale progetto hanno visto sotto accusa anche l'intenzione nel Comune di Pescara di spostare la vasca di raccolta di acque miste dalla zona ospedale dove era inizialmente prevista a quella nei pressi del Fosso Grande il rischio sostengono i consiglieri di opposizione è quello di un danno ambientale in tal modo il livello di inquinamento sarà ancora meno controllabile perché ovviamente se noi andiamo ad aumentare l'indotto di queste acque sporche automaticamente danneggeremo ancora il mare quindi loro hanno detto che non è così in sede di commissione però noi faremo approfondimenti perché ci sembra un po' strano cioè se non sono solo acque bianche allora come faranno ad evitare un ulteriore inquinamento? l'etuale del teatro dell'opera di Roma Rebecca Bianchi e un quartetto d'archi hanno dato vita ad una performance unica nel suo genere un balletto sulla vetta più alta dell'Appennino il corno grande il tutto è diventato un videospot un'etuale del teatro dell'opera di Roma e un palco scenico d'eccezione la vetta più alta del Gran Sasso e la performance straordinaria ed unica nel suo genere di Rebecca Bianchi che il 25 di agosto scorso lungo il percorso che conduce al corno grande e vetta più alta dell'Appennino assieme a un quartetto d'archi con il solista al clarinetto ha dato vita a una performance senza precedenti l'evento è stato riservato al solo staff tecnico e ai filmmaker per girare il videospot con l'etuale come testimonial la vetta è stata raggiunta a piedi dalla via normale con il supporto del comando del soccorso alpino della guardia di finanza diretto dal comandante Paolo Passalacqua che ha offerto e messo a disposizione i suoi uomini e il capo stazione del soccorso dell'Aquila la guida alpina Leandro Giannangeli la performance si è inserita all'interno della rassegna in punta di piedi tra arte e territorio organizzata dall'associazione culturale l'etuale in collaborazione con Art Nouveau iniziata il 2 di agosto con il concerto spettacolo su Pizzo Cefalone e conclusasi proprio il 25 sul corno grande con questa esibizione da togliere il fiato e adesso apriamo la pagina dello sport ovviamente partiamo dalla serie B perché domani alle 15 il Pescara ospita il Cittadella per una gara difficile che è decisiva per le sorti del tecnico Massimo Oddo tornano a disposizione Val di Fiori Galano e Asensio out per infortunio Drudi, Bocchetti Bocic, Riccardi Omeonga e Memushai rifinitura allo stadio Adriatico Cornacchia stamani per il Pescara che domani si gioca tanto contro la bestia nera Cittadella Massimo Oddo dovrebbe confermare l'assetto visto nella seconda parte del secondo tempo di Lecce quando il Delfino aveva trovato il gol con Maestro assaporando per una decina di minuti anche la rimonta prima della terza rete salentina dunque due trequartisti alle spalle dell'unica punta Seter in grande ascesa le quotazioni di Vokic che appare in vantaggio su Galano per giocare in linea con Maestro l'unica vera nota lieta di questo inizio di stagione nonché unico marcatore in campionato del Pescara recuperato Asensio che andrà però in panchina Belanova e Masciangelo saranno i due esterni tra gli interni sembra sicuro di un posto Busellato balottaggio poi tra Val di Fiori e Fernandez nel trio di difesa certi di un posto Jarosinski e Balzano di due braccetti al centro Scognamiglio pienamente recuperato e in leggero vantaggio su Gut proprio per Massimiliano Busellato questa sarà una partita speciale originario di Bassano del Grappa e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cittadella con cui ha anche debuttato in B e con la cui maglia è andato a segno anche contro il Pescara di Zeman che volava verso la Serie A una rete che non impedì al Delfino di sbancare il tombolato erano tempi nei quali il Cittadella faceva meno paura e non era certo classificabile come bestia nera per Busellato 121 presenze con i Veneti più altre 44 con la Primavera ci sono altri ex Drudi che però non ci sarà al pari degli altri infortunati Bocchetti Bocic Omeonga Riccardi e Memushai quest'ultimo non convocato per una botta presa in allenamento e poi Ventola lo scorso anno in prestito al Cittadella con appena tre presenze in campionato più una in Coppa Italia nel Cittadella c'è un solo ex si tratta di Elan Castrati il portiere albanese cresciuto nelle giovanili biancazzurre e vice Fiorillo fino allo scorso gennaio quando si è poi trasferito a titolo definitivo alla Trapani per poi approdare al Cittadella dopo lo svincolo a causa dei problemi societari dei siciliani coi Veneti ha debuttato in Coppa Italia contro lo Spezia e anche nelle dichiarazioni rilasciate da alcune testate in settimana ha confermato che domani sarà emozionato nel tornare all'Adriatico Cornacchia e che la scelta di andare via è stata dettata dalla volontà di trovare più spazio per giocare Cittadella che ha ancora delle grane legate al Covid la scorsa settimana le positività del tecnico Venturato e del terzino Donnarumma mercoledì sono emersi altre tre positività due calciatori e un dirigente la squadra stamani è partita la volta dell'Abruzzo con 22 giocatori convocati non fanno parte della lista i tre infortunati Chaju Tavernelli e Camigliano nell'abituale 4-3-1-2 non ci dovrebbero essere grandi sorprese davanti a Magnero la linea di difesa con Ghiringhelli Frare Adorni e Benedetti in mediana Pavan favorito su Iori con Vita e Branca mezziali Durso trequartista alle spalle di Rosafio e Ogunseie con Sisse pronto a subentrare nella ripresa il primo obiettivo è fare punti perché ovviamente abbiamo carenza di punti e poi ovvio che per fare punti devi fornire una prestazione all'altezza io penso che nei momenti di difficoltà nelle squadre la società ha il dovere di intervenire come è stato fatto quindi io penso che sia la consuetudine sia la normalità non è una cosa normale anzi è una cosa normalissima il confronto aiuta le persone intelligenti traggono conclusioni positivi da un confronto per cercare di migliorarsi quindi per quanto mi riguarda è stata una settimana in cui la squadra ha lavorato bene abbiamo messo a punto il lavoro da fare sul campo e domani cercheremo le nostre risposte sul campo perché è quello che conta io in questa settimana come sempre penso di aver dato tutto questo non vuol dire che le cose che dico sono oro colato sono giuste ma sono il pensiero di un allenatore che mette una scuola in campo quindi io ho visto una squadra concentrata ho visto una squadra che ha voglia di riscatto ho visto una squadra che dopo la partita di Lecce ha quantomeno capito che le qualità ci sono e si può e si deve fare molto meglio di come stiamo facendo e questo a partire da me e quindi io sono io sono sereno non sono sono preoccupato per quanto deve essere preoccupato un allenatore di calcio nell'arrivare alla domenica ma non sono assolutamente teso o quant'altro sono sereno sono sereno perché questa serenità me la trasmette la squadra ho visto una squadra che ha lavorato bene quindi io sono sereno il Cittadella è una squadra che vuole essere attaccata per poi giocare tanto sulle seconde palle giocare tanto sulle punte loro fondano il loro gioco soprattutto su questo quindi dobbiamo avere anche un certo tipo di intelligenza nel capire che se vai troppo all'arrembaggio poi ti allunghi ancora di più di quello che sei ultimamente quindi dobbiamo stare attenti e accorti questo non vuol dire che non ci debba essere aggressività ma ci deve essere l'aggressività nei momenti giusti della partita è molta sagacia tattica scendiamo in una serie D che si ferma con il suo calendario regolare per dare spazio ai tanti recuperi delle partite non disputate per covid ma anche la gara Giulianova Cinzia al Balonga che si sarebbe dovuta giocare domani salta per un caso di positività nella squadra giuliese il campionato riprenderà il prossimo 29 novembre il Castelnuovo ha finora disputato tutti e sei match da calendario si gode questo bel inizio di stagione è un provvisorio secondo posto troppe gare da recuperare e così il covid 19 ferma anche la serie D si tornerà in campo evoluzione della pandemia permettendo l'ultimo weekend di novembre e in tutta probabilità con un protocollo sanitario rinnovato che preveda l'adozione di tamponi rapidi per staff e calciatori dunque spazio ai recuperi ma non per tutti una di queste è la matricola Castelnuovo una delle poche formazioni che prima dello stop aveva giocato tutti e sei i match in calendario rivelandosi vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione la formazione terramana ha dimostrato subito di essere gruppo maturo e affiatato con i senatori in prima linea sempre pronti nelle fasi difficili della gara a farsi sentire aiutando i più giovani soprattutto quelli alla prima esperienza tanti in un campionato non più regionale a spendere parole d'apprezzamento per l'avvio di stagione in casa nero verde e il patron Giancarlo Di Flaviano è stata una partita molto difficile il Montegiorgio si è visto una squadra molto ben organizzata faceva girare la palla molto in velocità forse da oggi dobbiamo ringraziare anche il talento di alcuni nostri giocatori che hanno fatto la differenza siamo contenti del nostro avvio anche perché abbiamo incontrato tutte squadre molto titolate tranne forse la parentesi di domenica scorsa a Castelfidardo penso che abbiamo fatto sempre bene ecco è un giocatore che si vede poco ma si sente parliamo di Massimo Loviso qualità eccellente anche dal lato umano sa parlare con i ragazzi più giovani sa guidare in tutte le parti del campo sì Loviso sì ma si vede anche in campo nonostante la qualità ma anche quantità il nostro allenatore in campo per noi è un grosso valore aggiunto credo è stata una pedina essenziale nel nostro nella nostra squadra tra tutte le difficoltà quanto vi aspettavate questo avvio noi ci speravamo perché comunque abbiamo cercato di fare le cose per bene a livello tecnico con i vari innesti quindi diciamo che ci speravamo quindi ci speravamo parliamo di palla a mano adesso attesa a Pescara per la gara della nazionale maschile di handball che ospiterà domani la Norvegia alle ore 18 al pala Giovanni Paolo II partita valida per il gruppo 6 di qualificazione agli europei del 2022 di Ungheria e Slovacchia il match che ovviamente si disputerà a porte chiuse per le restrizioni legate al covid-19 avrà inizio come detto alle ore 18 ieri la delegazione azzurra è stata sottoposta per la seconda volta in questo raduno ai test antigenici tutti negativi la Norvegia due volte vice campione del mondo nel 2017 e nel 2019 giungerà a Pescara con un volo charter che atterrerà direttamente domani mattina per ripartire poi già in serata e questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma youtube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23 grazie per la cortesia attenzione e buon proseguimento di serata e buon proseguimento